con questo video vorrei mandare un affettuoso saluto e un abbraccio virtuale a tutti i medici a tutti quegli infermieri che di notte e di giorno stanno affrontando in maniera egregia questa emergenza davvero siete degli eroi grazie che vi arrivi tutto tutto quanto il mio amore un bacio da Alessia